Vieni, 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 non aver paura di me, ti sei allergico? Leggermente, sì. Ciao. Allergico, lo piace, è gratta. Allora, vieni qua. Ti faccio vedere che ti vengono tutte le panno qui. Sì, ho trovato il panno qui. Vieni, sali, ho il testo di minchia, via. Mi sono così? Mia, sali, via. Dopo gli fai attaccare il telefono. Davide. Ma sei andato a dormire adesso? Io proprio dormo, ma le vado. Ma te, ma il bagno è lì. No, questa cosa è da riprendere, è da riprendere. C'è la luce, c'è la porta. Quanto è piccola. Va benissimo. Che spalla. Gattino, un gattino mio, un gattino, un gattino... Oh, fangolo, gattino. Gattino, scappa, magari non sei in braccia. Tranquillo. Ciao. Buonasera, ragazzo. Sono già qui comunque. Dimmi. Sono qui, ragazzo. Vedi. Io voglio prenotare un... 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 Questa è una stanza unica, è la suite. La suite. Ma dai? Sì, e... Ci saranno... Hai cinque euro per andare a finire. No, non sono qui. Quale via? Qui ci viene. Cosa mi dovete dare? Non mi ricordo... E dai, te li devi! Tornata, scrivi! Con quanti per se ci viene? Cosa io solo? Sono povero. E sette cento euro. Prima e documenti. fangulo fangulo io sto io ho due ordinarie qua al Campanisprice